C'è ancora il fine pena mai degli ergastolani ostativi destinati a finire i loro giorni in carcere e il diritto alla speranza al centro del dibattito che ha animato la presentazione del volume Il Viaggio della Speranza, saggio che raccoglie gli atti dell'Ottavo Congresso Nazionale della Rete Nessuno Tocchi Caino, l'associazione che si batte per l'abolizione del carcere a vita e per un mutamento dell'attuale disciplina penitenziaria e penale. Temi di grande impatto sociale che tornano a essere dibattuti in città grazie all'impegno della Camera Penale Eschilo di Gela che ha organizzato l'incontro nell'ex chiesa ai San Giovanni. Al dibattito hanno preso parte Sergio Delia e Rita Bernardini rispettivamente segretario e presidente della Lega Internazionale Nessuno Tocchi Caino E' il senso di questo libro che poi è il seguito, possiamo dire, letterario di quell'opera straordinaria di Ambrogio Crespi che è un docufilm spesso e contraspermo in cui anche detenuti all'ergastolo come Orazio Paolello hanno preso la parola beh, questo libro è la testimonianza attraverso anche le parole, gli interventi di persone che hanno conosciuto, hanno fatto l'esperienza del male e nel pagare per quell'esperienza hanno ritrovato le ragioni di una resurrezione, di una rinascita, di una conversione dal male al bene. Cerchiamo di alimentare con la speranza i nostri legislatori che sono veramente non molto attivi per fortuna le corti superiori, dalla Corte Costituzionale alla CEDU, si dimostrano molto sensibili. Tra i momenti più toccanti della serata l'intervento di Maria Di Dio che ha ricordato il nipote Francesco Ergastolano morto in carcere dopo esservi entrato poco più che maggiorenne. Francesco Di Dio era detenuto nel carcere di opera, aveva 48 anni ed era in prigione da 30. Era in carcere dal 28 gennaio del 1991, in 41 bis, dal luglio del 1992, condannato in via definitiva all'ergastolo per la strage della sala giochi che nel novembre 1990 causò otto morti e sette feriti a Gela nello scontro tra Stide e Cosa Nostra. In carcere Ciccio si è ammalato di diabete, una lunga malattia che lo ha portato lentamente prima all'amputazione degli arti e poi alla morte. Ciccio in quegli anni però è cambiato, si era messo a scrivere, aveva scelto la non violenza. Il sistema carcerario invece è rimasto quel che è sempre stato strutturalmente violento e di fronte alla violenza del carcere che lo ha recluso fino alla morte, Francesco ha scelto la via del diritto e della tolleranza, come racconta Maria, la zia che ha accompagnato Francesco fino al giorno della sua morte. Lui è cambiato, è diventato una persona molto, 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 molto umana, tant'è che ha lavorato per la beatificazione del progetto del giudice Livadino. Inoltre durante la sua permanenza là mi ricordo che ho letto una relazione del carcere che diceva che lui ha chiesto scusa a un ragazzo che aveva subito un lutto in famiglia e agli altri non sapeva come chiedere scusa perché erano detenuti e quindi non aveva la possibilità di chiedergli scusa. Che ricordo ha oggi di Francesco? Io ho un ricordo bellissimo della persona che è diventata. Lui oggi avrebbe potuto essere un esempio per tanti giovani perché cioè il carcere cambia. Il dibattito è stato moderato dall'avvocato Giacomo Ventura, attuale presidente della Camera Penale Eschilo e da anni ormai impegnato nell'analisi dei temi portati avanti da nessuno tocchi caino. Là dove c'è un problema di difesa di un diritto anche del peggiore dei colpevoli, metaforicamente caino, lì c'è tecnicamente un difensore, un avvocato, volontaristicamente un alfiere di questo tipo di valori che sicuramente sono meravigliosamente aggregati nell'associazione Nessuno Tocchi Caino.